Ciao a tutti ragazzi qui Exavian e vi do il benvenuto in questo nuovo video spero che stiate tutti bene, spero che stiate passando una buona giornata ebbene oggi sono qui per parlarvi un pochettino di quella che è un'idea che ho avuto e che sulla quale già stavo pensando da un bel po' di tempo però giustamente tra l'operazione, tra tutte le cose che ho avuto da fare, controlli e quant'altro purtroppo non mi sono potuto cimentare più di tanto ora probabilmente dal titolo del video avrete capito lavori in corso ebbene sì sto cercando di fare una bella ristrutturazione per l'intero canale una bella ristrutturazione parlando di contenuti principalmente che non è ovviamente la cosa che ci interessa di più, che tiene in vita questo canale passando per altre cose di cui vi parlerò quindi l'obiettivo di questo video è anche quello di chiedere un po' un feedback da parte vostra che è veramente ciò che mi serve in questo momento visto che già il canale è messo piuttosto male ormai da tanto tempo prima di cominciare però so che può sembrare ripetitivo però ci sono state molte persone che mi hanno chiesto cose del tipo potresti portare dei contenuti Blizzard, quella eccetera voglio mettere un pochettino in chiaro questa, tra virgolette, nemmeno discussione provare a dare delle risposte sperando che poi si comprenda esattamente il perché io abbia deciso di non portare più cose Blizzard come contenuti principali purtroppo sappiamo già che cosa è successo sappiamo che Heroes of the Storm è stato dichiarato in modalità manutenzione anche se a quanto pare da quello che ho potuto leggere dalle notizie in giro dovrebbe uscire una patch che è a quanto pare la più grande mai uscita dalla nascita del gioco cosa che un pochettino mi fa pensare tipo ok potevate farlo un pochettino prima oppure potevate anche non ammazzare il gioco certo ci sarebbe moltissimo da dire non voglio sembrare troppo ripetitivo per carità sarei felicissimo di rivedere Heroes of the Storm all'impiedi ma purtroppo il problema è che in generale Blizzard sta facendo di tutto e di più per mettersi la zappa sui piedi perché sta cercando probabilmente di concentrarsi su altri prodotti su altri tipi di giochi e sappiamo più o meno dove stanno puntando e purtroppo la motivazione per cui ho smesso di portare i loro contenuti è perché stanno facendo morire letteralmente tutti i loro giochi è incredibile persino Starcraft sta avendo gravi difficoltà è strano Overwatch non è messo tanto bene nemmeno Heroes of the Storm la gente continua a pensare vabbè ma tanto è ancora vivo eccetera però purtroppo non si prende in considerazione il fatto che abbiano tolto dei pezzi importanti dal team di sviluppo non si capisce che la maggior parte delle cose che stanno facendo uscire ce le avevano già preparate o abbozzate da qualche parte perché di certo non possono fare uscire un aggiornamento così grande con un team così dimezzato quindi ci sono state anche altre cose che sono accadute da quelle parti tra licenziamenti a random per cercare di far risultare i conti gente che c'è impiegati che stanno in case stile rivoluzione industriale quindi tipo 10 operai ammassati in una stanza per 3 per 3 persone più o meno così tanto per far capire il riferimento storico anche se ovviamente ora non ricordo bene però in generale le condizioni sono piuttosto drastiche e mi viene da pensare caspita ma veramente se siamo a questi livelli ormai quindi non voglio fare nulla per un'azienda che ormai non se lo merita cioè non è più quella che abbiamo conosciuto ed è davvero triste per me dire così quindi spero che capiate che principalmente per me è comunque una bella perdita e lo sappiamo già non solo dal punto di vista dei contenuti perché sicuramente il canale è stato tenuto all'impiedi per tanto tempo da quei giochi e ora mi ritrovo infatti in questa situazione perché non li sto portando più e non mi vado a lamentare passando ad un altro discorso non mi vado a lamentare del fatto che non ci siano molte visualizzazioni sugli altri video cioè posso capire perfettamente che i contenuti che sto portando attualmente non siano di un gran che di interesse proprio per questo sto cercando di portare un po' quella che è una lista che mi sono anche scritto per sicurezza perché ho la memoria un pochettino corta in quest'ultimo periodo e di conseguenza ho pensato anche di portare dei giochi che possano portare nuova gente possano piacere a voi che guardate che è la cosa più importante e soprattutto voi che possono piacere anche a me perché io sono sempre quel tipo che se c'è una cosa che non piace magari non la fa con piacere di certo io non voglio portare dei video fatti per forza che poi magari risulterebbero anche un po' tipo scazzati o roba del genere quindi ho fatto una lista alcuni giochi sono convinto di volerli portare e spero anche che vi piacciano per altri magari sto voglio pensare un po' voglio pensarci un pochettino prima di mettermi a portare queste serie quindi ti chiedo anche un po' un vostro feedback e vediamo come lista ho pensato Apex Legends allora Apex Legends era un gioco che volevo portare già da prima da quando usci perché mi piacciono gli fps e come Battle Royale è piuttosto carino l'unica cosa che mi ha un pochettino frenato dal portale è stato il pc che tra parentesi fino a poco fa ho avuto qualche problemino e spero che si sia risolto non ne ho la più palida idea però diciamo che ho avuto qualche problema perché comunque volevo portare questo gioco principalmente e sfortunatamente con tutti i problemi che ho avuto non mi ci sono messo più di tanto però è sicuramente un gioco che voglio prendere in considerazione che può portare magari nuova gente che può anche piacere perché è abbastanza dinamico è abbastanza veloce e credo che è sicuramente un gioco anche che mi piace giocare anche in compagnia di qualche amico o qualcuno anche di voi sarebbe fantastico come nuova serie ho pensato anche di portare Subnautica che ce l'ho da un po' volevo provarlo e il pc sembra reggerlo abbastanza bene non a qualità altissima però credo che sia uno di quei giochi abbastanza rilassanti che possa portare comunque altra gente che possa soprattutto dove io posso anche andare a affrontare un pochettino l'oceano che devo essere sincero posti al buio più oceano più possibilità di incontrare chissà quale tipo di mostro marino di certo è una delle cose che da certi punti di vista mi fa un po' sussultare quindi quello potrebbe essere anche una cosa interessante da portare spero che mi possiate dare anche del feedback su questo Seven Days to Die voglio continuare a portarlo fin quando è possibile perché comunque in questo momento lo sviluppo del gioco sembra che sia di nuovo rallentato moltissimo spero che non si fermino per un anno e mezzo con con quello perché mi piacerebbe vederlo un po' più completo sicuramente proverò anche a portare tra virgolette delle modalità diverse dei possiamo dire difficoltà diverse anche delle mod se è possibile e se è possibile anche riuscire a trovare un modo per giocare in multiplayer con qualcuno di voi quello sarebbe davvero fantastico voglio provare anche a riportare una vecchia serie che non la chiamerei nemmeno serie in effetti comunque è un pezzo di storia del canale sarebbe Robocraft Robocraft che è cambiato molto da quello che ho potuto vedere negli ultimi anni sarebbe interessante vedere un pochettino che cosa è cambiato sarebbe carino provare a costruire delle cose un po' a random e poi metterle al lavoro chissà fatemi sapere un po' cosa ne pensate poi questi possiamo dire che sono i giochi principali che voglio provare a portare nel mezzo c'è anche Frostpunk però Frostpunk ormai manca solo uno scenario e per quanto ci sia la modalità infinita quella credo che sia più adatta per una situazione di streaming sul quale poi parleremo magari anche dopo come serie poi secondarie chiamiamole secondarie che tra virgolette sono quelle che mi piace portare perché sono giochi che mi piacerebbe in generale giocare anche da solo però che vi porto anche sotto forma di video Kingdom Hearts 3 l'abbiamo cominciato ce l'ho cominciato e per quanto non stia di certo facendo un granché come risultati è un gioco che voglio continuare a giocare molto molto bello e cercherò di completarlo subito dopo se è possibile spero di portare anche Resident Evil 2 remastered un'opportunità per affrontare al solito le mie paure più la mia paura che è stupida che però c'è e poi abbiamo anche dei possibili giochi che magari c'è Monster Hunter World che ne ho sentito molto parlare che ho visto qualche review ho visto qualcosa e sembra molto carino magari vorrei avere un vostro parere se conoscete il titolo sembra molto carino da portare molto bello anche come grafica anche se non è proprio la cosa che mi interessa di più solitamente in un gioco però ci sono molte meccaniche che sembrano davvero molto interessanti c'è un bel po' di progress e quant'altro e poi c'è una parentesi che sarebbe un gioco di nome Hytale che è ancora in sviluppo però a quanto pare questa volta ci sarà direttamente la beta quindi non ci sarà un alfa o comunque dovrebbe esserci un alfa dovrebbe esserci qualcosa però già il fatto che stiano parlando direttamente di una beta mi fa ben sperare ed è un gioco molto particolare perché ha le sembianze di Minecraft su certi punti di vista però è come posso dire un Minecraft dove c'è molta più libertà perché poi magari ne parleremo meglio più avanti con qualche video se magari sarete interessati ci sono molte particolarità perché non ci sono problemi ad esempio nel costruire mod nel costruire i propri mondi fare degli script veri e propri per cambiare statistiche creare mostre animazioni texture armi tutto si può creare tutto da zero tipo con dei programmi esterni proprio di creare il disegno per esempio del mostro poi animarlo in generale sembra un gioco anche piuttosto interessante perché per chi magari non come me non sa fare queste cose più di tanto comunque può giocare un gioco che ha comunque una modalità avventura che sembra piuttosto interessante e che già presenta anche delle meccaniche di costruzione piuttosto carino quindi su questo ragazzi vi chiedo un po' di feedback fatemi sapere che cosa ne pensate da prendersi itale potrebbe diventare un contenuto principale perché sembra anche piuttosto rilassante e credo che ci saranno anche le possibilità di poterci giocare anche con più persone quello sarebbe davvero fantastico un'altra parte della ricostruzione di questo canale saranno proprio gli streaming allora voglio aprire una parentesi perché è molto importante per me aprirla ed è giusto anche dare delle spiegazioni perché caspita adesso me la penso e voglio riaprire gli streaming sì voglio farlo perché fino a qualche tempo fa fare streaming per due tre quattro persone stava diventando molto frustrante ero molto frustrato preso anche dal momento molto difficile che stavo passando e mi dispiace per queste persone che mi seguivano perché comunque caspita loro erano sempre erano sempre presenti e soprattutto toglievo anche l'opportunità qualcuno oltre queste quattro persone di seguirmi anche in questa avventura ora so che molti di voi hanno qualche difficoltà per quanto riguarda la connessione Twitch in effetti è un po' più pesante e purtroppo non posso decidere la risoluzione fino a quando cioè non posso aiutare a farvi scegliere la risoluzione a voi cioè per esempio non posso darvi la possibilità di scendere dal full HD il 720p o quello che è perché purtroppo non sono ancora partner quindi non è una cosa sulla quale posso aiutarvi quindi per venirvi incontro ho deciso di portare magari gli streaming direttamente in 720p piuttosto che full HD così da potervi venire incontro così non dovreste avere troppi problemi con la connessione capisco che se poi andate anche oltre anche sotto non posso fare di più perché non posso buttare la qualità pixel diciamo così perché altrimenti non riuscirei completamente a farlo a far crescere lo streaming anche volendo e soprattutto voglio fare streaming di qualsiasi gioco mi venga per la testa anche il più l'ultimo l'ultima ruota del carretto anche se sto giocando magari con amici magari mi piacerebbe portarlo sotto forma di streaming e questa era una cosa che veramente mi bloccava perché pensavo caspia voglio giocare questo gioco in streaming allora non ci gioco e costantemente così è diventato un po' questo è il problema che molto spesso ok non voglio giocare questo perché devo farci il video oh caspia scusa microfono non voglio giocare quest'altro perché magari anche se cioè magari voglio giocare con i miei amici però siccome non è un gioco che fa un granché di visualizzazione allora non lo porto stavo completamente sbagliando l'approccio e di conseguenza voglio riprendere da zero e sarebbe buono davvero proseguire per quella strada e un'altra ultima cosa che sicuramente credo che sia molto importante per aiutare il canale anche a farsi un po' di pubblicità cosa che in tre anni e mezzo non ho mai fatto quasi quattro ormai caspia non mancano due mesi soltanto al quarto anno wow dicevo voglio aprire un nuovo social una pagina instagram dove spero di poter rendere un po' più partecipi le nuove persone e spero di poterci fare tra virgolette un po' più pubblicità magari non voglio utilizzare per adesso facebook non voglio utilizzare gli altri perché sembrano un pochettino poco utilizzati un po' forse obsoleti e soprattutto in questo momento non stanno andando proprio fortissimi a quanto pare almeno da quello che mi viene detto non sono proprio ferrato con queste cose però voglio cercare di aprire anche un nuovo social e provare a utilizzare anche quello credo che sia una mossa giusta da fare poi non ne ho la più palida idea a parte questo credo che non ci siano altre cose da aggiungere voglio soltanto aggiungere che tutte queste modifiche arriveranno magari dopo Pasqua barra dopo Pasquetta perché sarò estremamente impegnato in queste settimane e di conseguenza voglio anche preparare un nuovo banner per il canale perché è il momento direi di sostituire la scritta con l'immagine di Arthas e Sindragosa eccetera anche se gli avvisi degli streaming rimarranno comunque con le vecchie gif o robe del genere però direi che purtroppo non è più un canale che parla solo ed esclusivamente di Heroes of the Storm inoltre inoltre parlando di Heroes of the Storm perché è giusto un attimo aprire un'altra piccola finestra che è un po' più positiva magari a dicembre volevo fare uno streaming per salutare definitivamente il gioco però sfortunatamente con Stefano non siamo riusciti ad organizzarci abbastanza bene eravamo troppo impegnati anche lì quindi speriamo non voglio dire non voglio dare la certezza però speriamo che a fine aprile possiamo fare qualcosa del genere quindi lo saprete ovviamente prima detto questo ragazzi io mi auguro di avere il vostro feedback se avete altri giochi da consigliare fate pure vedrò di prenderli in considerazione voglio aprire in effetti un'altra parentesi molto importante purtroppo se una persona mi dice di portare un gioco che magari gli piacerebbe guardare vorrei poterlo accontentare però se è possibile datemi dei contenuti o delle idee che possono aiutarmi seriamente nel senso che sì a me farebbe piacere magari rendere felice quella persona portando il gioco che vorrebbe vedere però se faccio felice una persona e poi non riesco a coinvolgere nessun altro diciamo che mi danneggia a me moltissimo perché purtroppo ancora non ci guadagno sopra queste cose per il momento quindi spero che sia chiaro e spero che non venga vista anche come una cosa sbagliata purtroppo è anche una questione come un po' un marketing se tu investi su una cosa che poi non funziona perdi soltanto quindi spero che questo sia chiaro e spero che non venga preso come una cosa tipo un aspetto tra virgolette negativo detto questo io ragazzi al solito vi ringrazio mi dispiace se vi ho fatto perdere un bel po' di tempo ma avevo bisogno davvero di parlare di queste cose e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao